Ok, passiamo il turno. Sono partner di questi, sono alleati dei Fiamminghi. Ah no, della Svevia. Carinzia, Ungheria e Stati Papali. Uno embarga la Bavaria, ma siamo in buoni rapporti. Però non hanno soldi. Non sono alleati dei tedeschi, questo è vero. Però sono partner commerciali. Saltiamo un attimo la Baviera. Ok, questo è un emissario dell'Inghilterra. Magari potrei provare a chiedere una pace all'Inghilterra. Genova. Sono alleati con Venezia. Sono nemici... Eh no. Pisa e Milano no. E sono in bancarotta, tra l'altro. Devo declinare. Facciamo che ti do delle informazioni geografiche per un singolo pagamento... per un regolare tributo di 400 per quattro turni. Oggi veniamo con un messaggio per voi. Aspetta, prima aveva parlato di disco? Ehm... No. Questo conclude il nostro incontro. Giusto? Ok. Ah, ah, ah. Spie tedeschi. Spie tedeschi. Spie tedeschi. Emissario del Sacro Romano Impero. Emissario del Sacro Romano Impero. Spie tedeschi. Spie tedeschi. Sfilevia. Bavaria. Allora, mappa, grazie Questo è il Papa Sì, continua ad avanzare Questa è Bologna Allora, rapporto di soldi 894 Abbiamo costruito le proprietà provinciali feudali E quindi adesso posso fare... Ho questi, potrei riaddestrarli? Devo vedere A mezza abbiamo fatto la taverna Ok A Damien abbiamo fatto il campo mercenario E il commercio di armi Eccoli Questi qui mi devono tornare a Parigi Oh, finalmente Questi valorosi veterani Che sono qui dal 1072 Sono passati 25 anni Ci sta Sì, sì, costa un botto Però vale la pena Rapporto di riclutamento Orlean Abbiamo fatto gli arcieri, sì Il Taifa di Denia In guerra con Barcellona Leone in guerra con Aragona La Sicilia in guerra con i Bizantini Sicuramente per Taranto L'Ungheria ha rotto l'alleanza con i Bizantini No, Milano ha rotto l'alleanza con la Francia Leone ha rotto quella con la Borgogna E con il Papa Ungheria alleata di Pecenechi Che sono in guerra, se non sbaglio, con l'impero bizantino Infatti Ah, hanno dichiarato di essere alleanze Eh, guardate il comune di Milano Fiscito maledetto Ok Oh Questo giovane re dei Montmorency 16 anni Bravo, ragazzo Allora Brucia tutto E anche qui Milano che fa, il doppio gioco? Allora Sicuramente prendiamo questa Vai Ok, molto semplice Non perdiamo troppo tempo Sono arcieri qui No Allora Posizione Allora Unità Avanzate Voi pas de charge Laissez le bellier Bouger Marcher A la totte Devellerie léger Marcher En joue En joue Ok Vougier Marcher Unità 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 若 Unità Unità non c'è più nessuno qui alla porta beh tu stai tutto il tempo qui ad aspettare ma te possino siamo desincronizzati con quegli altri ecco mi siamo messi un po' così così ok qui ci siamo quasi c'è un po' così qui stiamo subendo un rallentamento ok proviamo a ingaggiarli oh 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 eeeh la nombra è schietta eeeh la ronde riemi insieme non è pura Aspettavo una carica migliore Dove sono gli arciari nemici? Ma sono questi Mori Questo non esistemo io Mori Tiene la posizione qui Perfetto come sta andando il muro di là? Ah L'avete sfondato Ok Ok. Dentro. Dentro. No. Lo sfondamento qui è un problema. Ok. Chiam binghi. Dietro fronte. Chiam la faccia. Ok. Eh, insomma. Deve non spaccare il muro ma non si apre. Qui, qui, qui. Teniamo la posizione. Ok. 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 Con un po' di ritardo ce l'abbiamo fatta Quindi Ok, questi hanno finito le frecce, quindi niente di che Iniamo Iniamo Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Eh, 142! Eh, questo era forte! Addirittura 37! 8, 3, 5, 6... Oh, finalmente! Liegi ritorna a nostra... E la contea di Fiandre è scomparsa dalla mappa. Oh, vittoria! Ripariamo il muro! Sì, questi andrebbero riaddestrati, ma... Oddio, potrei rifarli, eh, no, alcuni. Ok. Ok, sì. Va bene così. Kent. E questi sono scomporsi. Oh, molto bene! La vendetta sulle Fiandre è compiuta almeno. Quindi questi sono... Quindi questi sono... Ok, se tolgo questi... Ok. Se tolgo questi... A vostro... 145. No, 120... Ce lo possiamo tenere. Ok. So, bene.